Ciao a tutti, partecipo anch'io al contest di OVS e Fare per Bene Onlus che hanno deciso di fare una campagna contro ogni tipo di bullismo e cyberbullismo Faccio questo video perché purtroppo ricevo tantissimi messaggi da parte vostra dove giornalmente dovete affrontare situazioni di bullismo, magari a scuola o addirittura cyberbullismo tramite i social Ricevo tanti messaggi dove mi dite che vi piacerebbe fare quello che faccio io, fare video Però avete paura del giudizio delle persone Qualsiasi cosa noi decidiamo di fare sicuramente ci sarà qualcuno che ci giudicherà Quello che dovete fare è essere forti se avete un sogno cercare di realizzarlo al di là del pensiero delle altre persone Non fatevi abbattere da quello che vi dicono, quindi vi lancio una sfida Dovete fare anche voi un video tipo questo dove magari lanciate un messaggio positivo o raccontate la vostra esperienza sul bullismo Taggare un'altra persona dandogli un 5 virtuale Taggo Gabriele Vagnato e spido anche lui a fare un video dove lancia un messaggio positivo Taggare un'altra persona di 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 un'altra